Volevo dire un pensiero, in pratica. Vi ricordate che io ho sempre detto che non mi schiero dalla parte di nessuno? Un motivo c'è, perché io non conosco nessuno e quindi una persona non si può schierare dalla parte di nessuno fino a quando non va in sintonia con una persona, in pratica. Io sono diventata amica di una ragazza, di una donna e mi trovo bene, abbiamo molte similitudini nella vita e ovviamente quando poi ti affezioni è normale che poi la difendi, però non è perché io la difendo è perché mi viene detto di difenderla, no? Perché io non c'è il bello pensante. Ho difesa perché meritava di essere difesa, perché nessuno si può permettere di trattare una donna in questa maniera, di dire queste cose a una donna. Sia sul fattore fisico, sia sul fattore di famiglia, nel senso i familiari non si toccano, assolutissimamente, perché non fanno parte di YouTube, quindi i familiari non si toccano. Quindi adesso non meravigliatevi, se chiamatemi guerriera difenderà qualcuno. Sono stati superati troppi limiti e siccome io sono una guerriera, difenderò chi ritengo giusto difendere. Difidate da chi usa le parole dicendo di difendere, ma basatevi sulle persone che fanno i fatti. E adesso, videotag. Faccio la differenza, sì, sì. Faccio la differenza, sì, sì. Ciao raga, io sono chiamatemi guerriera. E questo è il mio canale. Oggi ho visto un tag figo sul canale di L'Angolo di Lady B. E ho commentato e... Tac, ma ha scritto... Lo fai anche tu? Ok, facciamolo. Facciamolo. O famo strano o famo normale. Allora, questo tag in pratica... Quando ero piccola si dovrebbe intitolare. Allora, la prima domanda è... Quanti anni hai? Allora, io ho 39 anni. Ok. Numero 2. Mostra una foto di quando eri piccola e descrivila. Allora, siccome che io non mi mostro e non ho... A parte che non ho foto qui, dove sono, perché le tengo tutte in Italia. Ma, anche se l'avessi, non la mostrerei. Perché sennò, ovviamente, se qualcuno mi conosce, capirebbe che sono io. Ok? E quindi, posso descrivermi. Ero bionda platino, magrolina. Sempre stata altissima, più alta di tutti. Perciò, mi scambiavano sempre per una bambina più grande degli altri, no? E niente. Questa è una mia descrizione. Allora, numero 3. Quando eri piccola, avevi più amici maschi o amici femmine? Io avevo più amici maschi. Perché? Non ero tanto amata dalle femmine. Perché ero un po' dispettosa. Perché? Forse perché piacevo ai maschi. E poi avevo quel carattere da maschiaccio. A me piaceva giocare a calcio. Giocare con i ragni di plastica. A scondere gli insetti di plastica nei cassetti di mia mamma. Così saltava. Quando eri piccola, chi volevi diventare da grande? Allora. Quando ero piccola, volevo diventare una cantante. Solo che poi, parlando con la mamma di una mia amica, mi ha fatto capire che sono stonata. E mi ha rovinato il sogno. Quando eri piccola, cosa amavi mangiare? Allora, io amavo tanto mangiare la Nutella. La mia nonna me la comprava, però mia mamma non voleva che io mangiavo la Nutella. Che io mangiassi la Nutella. E in qualche maniera capiva sempre che io la mangiavo. Trovava sempre la macchiolina di Nutella o sul vestito o sul viso che avevo mangiato la Nutella. E quando mi interrogava, hai mangiato la Nutella? E io, no. E quella macchiolina cos'è? Cioè, ragazzi, non lo so come faceva, non lo so. Quando eri piccola, cosa odiavi mangiare? Quando ero piccola non mangiavo molto, eh. Io mangiavo più cose bollite e lesse, quelle cose così. Cioè, non mangiavo molto. E ho solo la fissa della Nutella e basta. E poi con la fissa lì ce la tiriamo dietro, mannaggia, la guerra. Perché hanno fatto sta Nutella? Quando eri piccola, quali erano le figure più importanti per te, oltre ai genitori? Le figure più importanti era la mia nonna, che per me era una seconda mamma. Poi una mia amica, che abbiamo vissuto insieme tutta l'adolescenza, fino a quando poi non mi sono trasferita. Quando eri piccola, quali erano le tue materie preferite a scuola? Allora, le mie materie preferite a scuola erano scienze, matematica, mi piaceva fare attività fisica, mi piacevano le cose di laboratorio e recitare, mi piaceva l'italiano. L'inglese mi piaceva, solo che poi dopo, cambiando professore, me l'hanno fatto andare in odio, sto cavolo di inglese. Basta, non ho più parato niente. Comunque andavo bene in tutte le materie, cioè... Quale consiglio daresti ai tuoi genitori guardando te da piccola? Credo nessuno, perché sennò non sarei quello che sono ora. Il tag finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. E niente, ci si vede nei prossimi video, raga. Grazie a tutti per i commenti che mi mettete. Adesso volevo fare il video con la letterina della pirottina che mi aveva messo in un commento. E poi volevo fare il video con le risposte a un tag che avevo messo riguardante delle scene di un film sul senso della vita. Se non l'avete visto andatelo a vedere perché era carino come tag. E quindi prenderò le risposte e farò il video risposta a quel tag. Vi ho spoilerato due video così adesso piano piano mi metto dietro a farli. E' solo che sapete, la situazione attuale non è che ti fa venire chissà quanta voglia. Va bene, io vi saluto a tutti. Vi ringrazio a tutti dei commenti. Continuate a scriverli perché a me fa piacere leggervi. E ci si vede in giro, raga. Ciao da Chiamatemi Guerire, è tutto super. Ciao. Ciao.